È un bagno di folla quello che saluta la 45esima stagione del Fontanelle in una serata con oltre 600 persone nell'impianto sportivo Marco Minelli. Ben 16 squadre per 340 ragazzi e ragazze, questo l'esercito del sudalizio biancazzurro reduce dalla separazione, non senza code polemiche con il branca avvenuta in estate. Ora si gira pagina e si guarda ad un nuovo capitolo che pone un obiettivo primario, l'inizio dei lavori per il campo sintetico, la palestra e il parcheggio, destinati a fare della struttura una vera cittadella dello sport. Un progetto che da Roma in questi giorni ha avuto il placeto del CONI. Questa settimana ci sono state delle decisioni importanti, al CONI con la presenza del sindaco e del presidente del CONI Perugia si è definito in tutti i dettagli la costruzione del campo sintetico. I finanziamenti sono completi in tutto il costo che è di 450 mila euro, la palestra stiamo aspettando il nulla osta e dietro al nulla osta c'è appiccicchiato un contributo di 200 mila euro. Io ho un amico che si chiama Lucio Fronduti che ha tutto pronto, mi dice quando partiamo, io dico che sicuramente forse entro l'anno riusciremo a, non a ultimarla ma a farla vedere che esiste. Il presidente Giorgio Saldi è quasi impaziente nel salutare i tanti presenti e augurare buon lavoro allo staff tecnico e alle famiglie coinvolte, fissando gli obiettivi di una società che guarda al futuro, forte di quasi mezzo secolo di storia. Il progetto dopo la divisione con il Branca, non completamente consensuale ma obbligata per noi, perché noi siamo diventati l'8 di febbraio una società di diritto privato che ha tutti i crismi per accedere ai fondi comunitari e questo rende tutto più importante e tutto più consistente. Lo staff tecnico si rinnova dopo l'addio di Giorgio Butò tornato all'Angelana, con i ruoli suddivisi tra settore agonistico e attività di base. Questo è un impegno che ci siamo presi due anni fa, grazie a Giorgio Butò che ci ha coinvolti in questa situazione. Credo che questa sera c'è tanta responsabilità soprattutto, perché tantissime famiglie hanno aderito a questa nuova edizione, perché ogni anno c'è una nuova, però c'è una continuità che è importante. I numeri sono importantissimi. Io uso solo uno slogan, siamo qui per i ragazzi di Gubbio, siamo qui per farli crescere e per farli divertire. Poi tutto il resto, quello che viene è ben accetto. È un ruolo delicato, tante volte magari si pensa che sono piccoli, magari è facile, invece c'è soltanto impegno, fare le cose semplici perché alla fine non ci inventiamo niente. I bambini sono aumentati e siamo veramente soddisfatti, c'è tanto entusiasmo e il nostro obiettivo principale è intanto quello di mantenere i numeri e cercare di, facendoli divertire, di mantenere i numeri. La serata ha proposto la carrellata delle 16 squadre dalle Juniores, che milita nel torneo regionale di A1, fino ai primi calci del 2013, con la conclusione affidata al calcio A5 diretto da Leonardo Argentina e soprattutto alla squadra femminile, nuovo fiore all'occhiello del Fontanelle, con oltre 40 ragazze coinvolte. I presupposti per un'altra stagione ricca di soddisfazione non mancano.